buongiorno a tutti lorenzo pentivoglio dalla contea mezzaluna ragazzi oggi andiamo a fare la seconda semina di patate siamo a metà settembre è un po presto ok ma non dovevamo neanche farla in realtà ragazzi ma mia moglie è galvanizzata dalla buona riuscita del sistema delle patate senza acqua e dalla super pacciamatura come avete suggerito voi nei commenti le ha raccolte tutte cosa che non doveva fare gliel'avevo detto ma va bene quindi le stiamo rimettendo stiamo mettendo tre chili di patate ragazzi quindi cosa abbiamo fatto abbiamo portato metà della pacciamatura scusatemi da un lato mettiamo le patate appoggiamole a terra e ricopriremo ok stessa cosa ovviamente faremo con l'altro lato questo qua ok e andremo avanti con i prossimi letti è andato bene ragazzi e spero sono fiducioso e anche abbastanza sicuro prendetela con le pinze questa cosa perché in agricoltura sicurezza non esiste comunque che il raccolto della prossima stagione andrà meglio sia a livello di quantità sia a livello di dimensioni delle patate perché ovviamente come ripeto siamo partiti da dei semi delle patate in convenzionale quindi abituati a concimi eccetera eccetera ad acqua e sono cresciute lo stesso senza acqua senza concimi eccetera quindi una volta tramandato il patrimonio genetico delle condizioni climatiche di acqua eccetera eccetera non potranno che migliorare ok bella ragazzi io continuerò ovviamente era solo un piccolo video per tenervi aggiornati prossimo video ragazzi andremo a vedere visto che sono passate oramai 36 ore dall'ultima grande pioggia che c'è stata la condea se il nostro sistema agro silvofastorale e tutti i sistemi bene o male come hanno reagito ok ora piccolo bonus del video volevo far vedere le nostre coltivazioni di anguria e melone ok questi sono gli ultimi meloni e anguria che ci sono rimasti perché li abbiamo raccolti parecchi ovviamente questa è una coltivazione con acqua non mi aspettavo di fare una coltivazione senza acqua di meloni e anguria ma sempre poca ragazzi meglio poca che troppa troppa acqua genera anaerobiosi del suolo i microrganismi muoiono poca acqua la giusta intanto da lasciare umido leggermente il suolo così che le piante non ci daranno dei frutti enormi ma non ci interessa ci interessa che siano succosi pieni di nutrienti e e resistenti soprattutto poca acqua meno malattie fungine o eccetera eccetera ok qui abbiamo lasciato i nostri broccoli ok o cavolfiori bianchi che dir si voglia abbiamo piantato le nostre zucche per l'autunnale sempre su ala gocciolante qua non va bene ok ora va bene come vedete ragazzi anche gli alberi stanno bene qua c'è un melone che oramai è secco e si può raccogliere in realtà non si stacca però la pianta è secca e quindi lo raccogliamo vediamo che cosa ne ricaviamo i nostri peschi stanno bene i crisoticum stanno benissimo non so se avete notato nel nostro orto perenni i crisoticum che altezza hanno raggiunto ok questo è uno dei più piccoli guardate questo ragazzi io sono alto un metro e novanta ok ovviamente andranno potati nel senso che noi non vogliamo come sapete tre tronchi principali ok ma ne vogliamo solo uno quindi qualcosa andremo a togliere questo è il torvum questo è il crisoticum se non sapete di cosa stiamo parlando cioè di albero delle melanzane andate a vedere i vari video che abbiamo postato sul nostro canale e bella ragazzi ovviamente questi pomodori andranno le ultime piantine in ziccagno andranno a rifogillare la nostra riserva di semi per l'anno prossimo e con una bellissima panoramica del nostro orto perenne nonché vi faccio notare giù in fondo i nostri aspettate eh eccoli qua vi vedete questi cespugli altissimi ok si sono i topinambur ragazzi tuberi dal sapore di carciofo arrostito eccezionali hanno fatto una bellissima siepe hanno fatto i girasoli come vedete sulle punte sono gialli quelli sono i girasoli dei topinambur non appena saranno secche le piante saranno pronti per la raccolta lasceremo qualche tubero all'interno della terra affinché si propagassero ragazzi l'anno scorso erano quattro piantine ci siamo sono tantissimi bella ragazzi lorenzo pentivoglio vi saluta e continuiamo a seminare patate bella alla prossima